Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito oggi a essere qui, è una cosa che chiaramente penso di poter parlare un pochino anche a nome delle altre persone che si occupano di questa cosa, che fanno parte del gruppo a cui appartengo, è proprio un piacere poter condividere con voi i primi risultati delle nostre fatiche. Una parola per presentarmi, mi chiamo Alizio Mette, io sono un chirurgo retinico, lavoro qui a Negrar da ormai 6-7 anni, mi occupo di chirurgia della retina, prima ancora di fare il chirurgo, cominciato nel 2001 con il professor Benfenati di Genova, occuparmi di neurotrasmissione della retina, abbiamo così assistito io e il professor Benfenati a una serie di potenzialità di cui vi parlerò oggi, che si sono concretizzate coinvolgendo una serie di altri centri tra cui quello in cui adesso lavoro, quindi insomma questo progetto è nato ben prima che arrivassi qua a Verona e ho avuto l'onore e il privilegio di essere tra le persone che lo hanno contribuito, però è la sua nascita. Allora, partiamo da quello che è un concetto anche qua di quello che fanno i fotorecettori. Le patologie degenerative della retina, in particolare la retina pigmentosa, colpiscono in prima battuta i fotorecettori. Fotorecettori che sono risultato di un percorso evolutivo molto molto lungo, che è partito da effettori, da cellule molto semplici, che in risposta alla luce facevano qualche cosa, movimento, cose varie. Nel tempo c'è stata una differenziazione durante appunto tutta l'evoluzione, siamo arrivati ad avere come effettore nell'organismo, quindi cellule che fanno effettivamente qualcosa a risposta degli stimoli, cellule che fanno parte del sistema nervoso. All'interno di questa popolazione cellulare molto vasta, le uniche cellule in grado di rispondere alla luce sono i fotorecettori. Quindi c'è stato proprio un percorso che ha portato alla formazione di cellule molto molto precise nella loro funzione, nella loro attività. Questo meccanismo di risposta alla luce è reso possibile, grazie alla presenza dentro queste cellule, di molecole che cambiano proprio anche configurazione risposta alla luce, cioè attivano dei meccanismi cellulari di tipo prevalentemente elettrico che generano un segnale elettrico che poi viene condotto attraverso i vari strati retinici e poi via verso il sistema nervoso centrale. L'idea quindi è stata un pochino la seguente, ci sono dei materiali nella famiglia dei semiconduttori organici, dei polimeri che fanno un pochino quello che fanno quelle famose molecole che nei fotorecettori svolgono il primo ruolo nella trasduzione visiva. Allora questi materiali possono interagire con i neuroni? Se sì, possono generare un cambiamento nel loro stato che porta all'attivazione o all'inibizione dei neuroni? A questo punto se la risposta fosse sì, ed evidentemente lo è, questi materiali possono fare dello stesso lavoro dei fotorecettori, cioè ricevere la luce e generare un segnale elettrico in risposta. Cercheremo di entrare un po' più nel concreto e ovviamente all'ilà dei momenti deputati alle domande, in qualunque momento chiaramente interrompetemi. Quindi il modello è un pochino quello della cella fotovoltaica che cominciamo a vedere ormai sui nostri tetti piuttosto che sui vari dispositivi di ricarica. Quindi un materiale, in questo caso questo polimero, il P3HT, che diventerà un pochino l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi, che è in grado di ricevere luce e generare una corrente in risposta. Capite che se su questo meccanismo, quindi luce e corrente, questo materiale fosse in grado di interagire con i neuroni e quindi generando una corrente attiva a questi neuroni, allora da quel punto il fotorecettore artificiale teorico è bello che è fatto. Dicevamo appunto che i fotorecettori fanno questa funzione, quindi ricevono la luce, la luce attraversa la retina, raggiunge i fotorecettori, i fotorecettori si attivano, generano un segnale elettrico che viene condotto attraverso gli altri strati retinici fino alle fibre del nervo ottico e poi dal nervo ottico verso la corteccia visiva. Nelle malattie degenerative della retina si ha una perdita di queste cellule, con delle conseguenze visive tangibili, nel senso che ci sono patologie in cui i fotorecettori più colpiti sono quelli centrali o quelli più periferici. Questo determina delle manifestazioni di malattie differenti a seconda appunto della patologia in oggetto, quindi difficoltà per esempio alla fissazione centrale o alla visione periferica. C'è un'analogia che in questa slide si chiarisce un pochino meglio rispetto a quanto in astratto posso aver spiegato finora di questi materiali, questi polimeri fotovoltaici rispetto a quanto fanno i fotorecettori retinici. Nel senso che il polimero può ricevere la luce e generare una corrente che è simboleggiata dall'accensione della lampadina, i fotorecettori fanno la stessa cosa, ricevono luce e generano una corrente e la corrente è il linguaggio, per semplificarla al massimo, attraverso il quale i neuroni comunicano l'uno con l'altro, quindi attraverso il quale lo stimolo visivo viene processato e viene condotto lungo le vie ottiche, lungo il percorso deputato. Adesso andiamo a vedere un pochino i dettagli del progetto, chiaramente semplificherò al massimo perché si può semplificare. Quello che è stato fatto in un primissimo momento è stato capire se effettivamente questo assunto, quindi questa possibilità di questo materiale di far crescere i neuroni su di sé, quindi materiale organico sulla carta biocompatibile è in grado di ospitare su di sé delle cellule, farle crescere senza danneggiarle, la risposta è stata sì. I neuroni crescono, tra l'altro i neuroni sono molto schizzinosi, fanno fatica a, coltivati in vitro, a crescere, invece su questo polimero crescevano bene. E una volta che questo polimero veniva illuminato con uno stimolo luminoso, la luce faceva sì che questi neuroni generassero dei potenziali d'azione. Il potenziale d'azione per un neurone è il segno che il neurone sta funzionando, sta scaricando dei messaggi, dei segnali. Quindi la luce attivava i neuroni che erano appoggiati su questo polimero. Spero che sia chiaro questa cosa qua. Una volta fatto su singoli neuroni, lo stesso esperimento è stato replicato mettendo sul polimero non singoli neuroni, ma retine degenerate, su modelli quindi di topo con una degenerazione retinica, retine degenerate spiantate dal topo, quindi tolte dalla loro sede naturale, messa sul polimero e stimolata con la luce. Questo è stato oggetto anche di una bella pubblicazione che abbiamo fatto e abbiamo dimostrato che la retina messa sul polimero e questo sistema illuminato portava a una generazione di impulsi elettrici in uscita dalla retina, quindi un'attivazione della retina. Anche, questo è molto importante, entro in intensità luminose assolutamente compatibili con quelle ambientali, perché è inutile creare un meccanismo perfetto che però per funzionare ha bisogno di una luce fortissima che mai troverai in un ambiente naturale, per due ragioni. Intanto quella più ovvia non sarebbe una condizione utile. La seconda è che oltre a un certo livello di intensità luminosa i tessuti nervosi si danneggiano, quindi è molto importante il fatto che questo segnale elettrico in uscita dalla retina avvenisse entro in intensità luminose normali. Questo credo, spero di essere stato chiaro anche questo. Va bene, questo è un concetto importantissimo che però esula un pochino da quello che oggi volevo lasciarvi come messaggio e cioè che ci sono soglie di frequenze di stimolazione luminosa, quindi frequenze di impulsi, oltre al quale si attiva quella che è una fotoinibizione, quindi i neuroni o le retine spiantate smettono di scaricare segnali. Questo è importante perché è un meccanismo che nei fotorecettori avviene, quindi insomma viene replicato un pochino quella che è la fisiologia, sia su neuroni che su espianti retinici, dicevo. Quindi diciamo che gli esperimenti sia in vitro, quindi su singoli neuroni appoggiati sul polimero, che ex vivo, quindi su retine spiantate e messe sul polimero, hanno dimostrato che la luce riusciva a regolare l'attivazione di questi sistemi in maniera molto fisiologica. Vi ricordo che essendo retine degenerate i fotorecettori lì non c'erano, quindi il segnale che andavi a misurare in uscita non era il risultato dell'attivazione dei fotorecettori perché mancavano, poteva soltanto essere il risultato dell'attivazione dei neuroni retinici a partire da quello che è il polimero. Quindi il polimero faceva il lavoro che normalmente avrebbero dovuto fare i fotorecettori, per essere molto concreti. Ecco, di qui siamo partiti con la parte più interessante, e cioè dire ok, va bene, questo materiale funziona come in natura dovrebbero funzionare i fotorecettori. Proviamo a vedere se è vero. Allora siamo andati a impiantarlo in vivo su modelli animali di cui adesso vedremo i dettagli. Facciamo un attimino un passino, non indietro, ma un pochino in alto. Guardiamo dall'alto il capitolo delle protesi retiniche. La retina ha dieci strati, i fotorecettori sono uno di questi dieci e sono messi al di sotto, diciamo, di tutti gli altri. La luce, cioè per arrivare ai fotorecettori, deve attraversare tutti gli altri strati retinici. Attraversa gli strati retinici attiva i fotorecettori, i fotorecettori si attivano e generano dei segnali elettrici, sto semplificando al massimo, veramente prendendo a calcio un po' la fisiologia, ma voglio essere molto chiaro, in realtà ci provo almeno. E quindi in risposta da questa attivazione abbiamo un segnale elettrico che viene condotto lungo gli altri nove strati retinici in uscita verso le fibre del nervo ottico. Allora, la retina artificiale, l'impianto retinico, può essere posizionato in due punti. O sulla superficie interna della retina, o sotto la retina, laddove sono normalmente i fotorecettori. Viene da sé che questo secondo approccio, l'approccio sottoretinico, è quello più fisiologico. Perché? Perché va a sostituire anche come localizzazione spaziale quelli che sono i fotorecettori. Ma perché questo è molto importante? Perché vi ho detto che gli strati retinici sono dieci. E quindi se ci sono vuol dire che servono, scusatemi la brutalità. Per cui se noi riusciamo a generare un segnale elettrico a partire dal nostro polimero, che viene condotto attraverso gli strati retinici, questi strati retinici non sono semplicemente un ponte verso il nervo ottico, ma sono una prima fase fondamentale per l'elaborazione dello stimolo visivo e per la formazione di quello che è poi lo stimolo visivo, così come noi lo percepiamo. Quindi non è solo un lampo di luce, ma è qualcosa di più strutturato che inizia a generarsi all'interno della retina. Viceversa, l'impianto epiretinico, quindi quello sulla superficie interna della retina, direttamente a contatto con le fibre del nervo ottico, quello probabilmente porta un'attivazione diretta del nervo ottico al netto di tutta quella che è la processazione dello stimolo che avviene negli altri strati retinici. Spero di essere stato chiaro perché è molto molto importante questo. Per cui noi adesso andiamo a vedere un attimino quelli che sono gli altri dispositivi, le iprotesi retiniche, proprio perché questi approcci vengono entrambi sfruttati. Partiamo dall'Argus II, famosissimo Argus II, impiantato ormai sul commercio, impiantato da diversi anni. In Italia ne vengono impiantati tantissimi, sono stati impiantati tanti, insomma, al Careggi, prima a Pisa, poi al Careggi dal professor Rizzo e qua in Veneto, a Campo San Piero, dal dottor Chizzolini. È un dispositivo epiretinico, cosa vuol dire? Che direttamente a contatto solo con le fibre del nervo ottico, quindi sulla superficie della retina, è un materiale siliconico con dei fotodiodi. I fotodiodi, vi prego di bloccarmi se questo concetto non è chiaro perché si gioca tutto qua. I fotodiodi sono come i pixel dello schermo, cioè sono come i quadratini della scacchiera, se vogliamo, cioè sono l'unità di misura, il sottomultiplo minimo, al di sotto del quale questo dispositivo non può andare. Quindi questo limita la risoluzione, c'è poco da fare perché se noi abbiamo un puntino che si illumina accanto all'altro e questo puntino è una dimensione, vuol dire che se lo stimolo è più grande e più piccolo ragioneremo sempre in termini di multipli e sottomultipli di quello che è il puntino che abbiamo a disposizione, il pixel che abbiamo a disposizione. Considerando che ci sono anche dei problemi tecnici, perché uno dice, vabbè, ok, mandiamo la gente su Marte, saremo anche in grado di fare i pixel più piccoli possibili. Entro certi limiti sì, entro certi limiti no, perché queste tecnologie hanno dei limiti. Pixel troppo piccoli generano un rumore di fondo molto maggiore, per cui pare, chiaramente non è che lo dicano in maniera espressa, che la risoluzione attuale dell'Argus 2 sia la massima possibile con questo dispositivo e i risultati funzionali di questi pazienti sono sicuramente buoni in termini di luce e ombra, ma sembrerebbe non poter andare molto oltre questo, proprio perché c'è un limite di risoluzione. Questo spero che sia chiaro, poi vedremo perché. Questo dispositivo necessita una fotocamera, una videocamera esterna montata su un occhiale e un processatore esterno. Comunica wireless appunto con questo processore esterno. Andiamo al secondo impianto, che è l'impianto Alfa, sviluppato dal gruppo del professor Zrener a Tübingen. Un impianto invece sottoretinico, quindi questo va sotto la retina, laddove normalmente sono i fotorecettori. Ha un cavo che attraversa l'orbita, quindi anche chirurgicamente non è proprio una banalità impiantare questa roba qua. Il cavo fuoriesce dalla regione temporale, c'è poi un cavo esterno, che viene collegato a questo cavo interno. Non c'è bisogno di una telecamera, ma c'è comunque un alimentatore esterno collegato a questo cavetto. Andiamo poi al primo dispositivo fotovoltaico, quindi che funziona col sistema famoso luce generazione di corrente, senza bisogno di alimentazione. sviluppato in America dal gruppo del professor Pallanker all'Università di Stanford, Colossi li ho conosciuti, sono veramente mostruosi. Questo dispositivo ha una risoluzione un pochino più alta, ha comunque bisogno di una telecamera montata su un occhiale, e ha comunque lo stesso problema della risoluzione. Ora c'è questo qui, il nostro progetto invece, in cui le cose cambiano, completamente cambiano. Intanto è un materiale completamente organico, perché sono polimeri organici, e non ha il problema dei pixel. Non ve l'ho potuto spiegare prima, perché sarebbe stato, veramente mi ha, penso, tirato qualcosa, perché è un concetto, un esperimento molto difficile anche da spiegare, per cui ho preferito semplificare al massimo il concetto, ma in sostanza il nostro dispositivo non ha dei pixel, non ha delle unità che si attivano, una superficie continua lungo le quali le cariche elettriche si spostano. Per cui se lo stimolo è piccolo, lo stimolo visivo, scusate, è piccolo piccolo, si attiva una piccolissima porzione del polimero, se è grande, è una porzione più grande, in maniera continua, non limitata dai pixel. Non c'è bisogno di alimentazione, perché vi ho detto che le cariche elettriche si spostano, ma non c'è un passaggio di cariche come in un circuito elettrico, e non c'è bisogno di telecamera esterna. La telecamera esterna spesso dipende dal fatto che la lunghezza d'onda della luce incidente va modificata. Abbiamo visto prima che invece questo polimero funziona su lunghezze d'onda fisiologiche. Quindi ecco perché non serve la telecamera. Il modello animale in cui abbiamo impiantato, spero sia tutto chiaro fino a qua, mi raccomando, fermatemi se qualcosa non è adeguatamente chiaro. Il modello animale che abbiamo scelto per l'impianto è un ratto che ha una degenerazione fotorecettoriale progressiva nel tempo, a cui corrisponde un decadimento visivo, ben descritto in letteratura. Il ratto è un modello che si chiama RCS, è una mutazione appunto in una proteina della fototrasduzione. Il polimero è appunto organico, è stato messo su un substrato, quindi per costruire la protesi, un substrato anche quello organico, perché non ha senso andare, non avrebbe avuto senso almeno in quella fase, andare a introdurre variabili, magari con una biocompatibilità diversa. Abbiamo scelto la fibroina della seta perché è una proteina, è un polimero molto flessibile, vediamo che questo però poi ci ha anche portato a cambiarlo, proprio per questo motivo. Questa è un'immagine della chirurgia nel ratto, l'impianto veniva posizionato al di sotto della redina, scusate mi sto riprendendo da un'influenza, viene collocato attraverso lo spazio appunto esterno all'occhio, e viene portato sotto la retina. Ecco qua vedete un'altra fase dell'impianto. Questa è un'immagine in vivo, è una retinografia al vicino infrarosso di come l'impianto è posizionato nella retina, quella di destra è chiaramente un animale che è stato sacrificato, come appare visivamente a livello macroscopico. Questi sono tutti gli OCT, quindi l'esame che spesso ai pazienti viene fatto fare per valutare lo stato della retina, la stessa macchina che si può utilizzare sull'umano è stato un lavoraccio via software anche all'animale perché non era ben chiaro cosa fare, insomma però ci siamo riusciti e questo è quello che siamo riusciti a ottenere a livello di immagini, quindi una retina, un polimero, un dispositivo che si integra molto bene con la retina circostante. Questa è un'immagine in immunofluorescenza, brutta parola, che indica la possibilità di colorare selettivamente delle popolazioni cellulari in sostanza, per cui abbiamo visto che marcando, andando a colorare le cellule dell'infiammazione, quindi per vedere quanta infiammazione si generava mettendo questa roba sotto la retina degli animali, abbiamo visto che non si generava una particolare infiammazione, quindi una conferma del fatto che il sistema è biocompatibile. Andiamo ai risultati funzionali, voi sapete che la luce genera un riflesso che porta al restringimento della pupilla, come il diaframma della macchina fotografica, più luce c'è, più restringo il diaframma per limitare la quantità di luce che entra nell'occhio, questo è il concetto fisiologico. Negli animali impiantati, sono i quadratini rossi, c'era un ripristino rispetto ai neri, che sono i non vedenti, c'era un ripristino della reazione pupillare, e quindi vuol dire che la luce generava qualche tipo di risposta. Ora entriamo in cose un pochino complesse, ma anche qua mi interessa che vi arrivi il nocciolo della questione, potenziali evocati visivi, un esame che spesso viene fatto anche appunto alle persone per valutare. Il concetto è, do uno stimolo visivo, cosa vado a misurare in termini di risposta elettrica in corteccia cerebrale, perché sappiamo che poi tutto finisce lì ovviamente, perché la visione diventi quello che è in realtà. Quindi si può fare anche nell'animale, si può fare anche nel ratto, andando selettivamente a misurare in zone specifiche di corteccia, quindi nella corteccia visiva. Vedete che il grafico in basso a destra è negli animali vedenti, c'è un recupero in sostanza, gli animali impiantati, vedete che le due colonnine sono poi abbastanza simili, quindi rispetto ai controlli, che sono quelli bianchi, c'è sicuramente un miglioramento nella risposta elettrica in corteccia. Stesso esperimento, il dottor Vetancur che lavora con noi, è un esperimento elegantissimo quello, in sostanza è riuscito a misurare le singole aree di corteccia cerebrale corrispondenti al punto esatto in cui l'impianto era posizionato nella retina. Quindi è notato che c'è una selettività di risposta veramente altissima. Quindi si vanno ad attivare esattamente quelle zone di corteccia. Nella corteccia cerebrale visiva di ognuno di noi, ogni punto ha una corrispondenza esatta con un punto retinico. Cosa vuol dire? Che se io vedo qualcosa nel mio campo visivo, questa cosa ha un punto, una localizzazione, e la corteccia cerebrale ha un punto corrispondente a quel punto preciso esatto. Altrimenti non potremmo capire nulla di come il mondo è disposto intorno a noi. Questa possibilità viene ripristinata in sostanza in questi animali in maniera molto significativa. Questa è un'altra cosa bellissima. Siccome sfido chiunque a misurare la vista in un ratto, non è semplice, però per fortuna c'è qualcuno che ha trovato dei modi alternativi. E cioè, anziché utilizzare la risposta elettrica così a uno stimolo, a un flash, quindi a solo un lampo di luce, si va a misurare la risposta in corteccia visiva di uno stimolo luminoso più strutturato, quindi non un flash, ma una specie di scacchiera, un pattern che si alterna. Questo consente di misurare la vista, in pratica, l'acuità visiva di questi animali in cicli per grado, che è l'unità di misura. Cicli per grado perché sono proprio la frequenza spaziale di quegli stimoli lumiosi che si vedono. E se l'animale vedente ha un'acutezza visiva di 0,8 circa cicli per grado, i nostri animali impiantati arrivavano circa 0,7. Quindi insomma, un recupero. Diciamo che questi sono un mese dopo l'impianto. Dopo un mese possiamo dire, considerando le ultime tre slide che vi ho fatto vedere, quindi andando a riassumere nel concetto, che vorrei che fosse la cosa che ci rimane oggi, a un mese dall'impianto, non ho qua i risultati a sei mesi, ma vale lo stesso discorso, a un mese dall'impianto, così come a sei, gli animali impiantati hanno un fenotipo funzionale del tutto sovrapponibile agli animali vedenti. Questo è un risultato assolutamente tosto. Questo è invece un esperimento comportamentale molto carino. L'esperienza comune di chi ha avuto malaguratamente i ratti, i topi in cantina è che il topo sta volentieri al buio, sta accendendo la luce e scappa. Questo può essere sfruttato a livello sperimentale. Quindi c'è questo dark light box, questa tecnica, per andare a valutare il comportamento di questi animali. Allora questo box, un box che per metà è oscurato, scuro, l'altra metà è trasparente e c'è una porta di passaggio tra le due metà. L'animale è libero di passare da una parte all'altra e viene misurato quanto tempo sta al buio, in quanto tempo scappa e il numero di transizioni. Chiaramente se l'animale ci vede preferisce stare al buio, quindi non solo ci sarà più tempo al buio, ma ci arriverà anche prima, scappa più velocemente. Beh sì, questo l'abbiamo verificato, effettivamente i nostri animali impiantati fanno prima scappare dalla luce al buio, trascorrono più tempo al buio. L'attività motoria, quindi come si muovono, è più o meno uguale perché in realtà il ratto può essere un altro sistema di movimento, quindi basato sulle vibrisse, eccetera, per cui tutto sommato per muoversi fa anche a meno della vista senza grossi problemi. Ora vediamo quello che stiamo facendo adesso. Animale un po' più grande, dicono, hai noi più vicino all'uomo, che è il maiale. in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bologna, Dipartimento di Fisiologia Veterinaria, abbiamo i nostri maialini che vengono operati in maniera un pochino più vicina a quello che dovrebbe essere il modello di chirurgia sull'uomo. Questa è una ricostruzione 3D dell'occhio, della curvatura, della retina. Abbiamo fatto anche delle stampe 3D poi per fare le prove sui modelli di protesi. Grazie a queste prove abbiamo deciso di cambiare substrato. Perché questa fibroina della seta, sì, ok, biocompatibile, perfetto, ma molto flessibile, si rigonfia con il contatto con l'acqua e quindi, insomma, abbiamo avuto paura che non fosse il modello tanto corretto per andare a fare quello che volevamo fare. Abbiamo fatto delle prove con un altro materiale che è quello che forma la plastica di queste bottiglie, il PET, che è già utilizzato in clinica abbondantemente da un sacco di anni, non ha mai dato e non dà reazioni infiammatorie e consente di stenderci questo polimero sopra con un'adesione neanche migliore. il polimero è stato preparato, quindi steso su questo materiale e c'è un laser fatto apposta che taglia questo materiale formando la protesi della forma che vogliamo. Vedete, sono 4-5 modelli, 4 modelli tipologie di protesi che stiamo provando come forma per valutarne la fattibilità chirurgica. L'animale viene valutato così come verrebbe valutato un essere umano sono proprio permalosi bisogna addormentarli li addormentiamo e gli facciamo una valutazione oftalmoscopica un esame OCT quella è la mia mano ovviamente doppio guanto è fondamentale e questa è la valutazione dei potenziali evocati visivi nella loro cupola sia a flash immagine di sinistra che a pattern immagine di destra questo invece è un test di comportamento così come c'era la dark light box nel topo c'è anche nel ratto un po' più grande chiaramente con una telecamera che li misura perché chiaramente il ruolo della persona lì fa sballare tutto e a questo punto il modello chiaramente noi nel ratto abbiamo utilizzato un modello di degenerazione fotorecettoriale dato noto qui abbiamo dovuto procurarci produrcelo noi il modello perché utilizzare gli animali transgenici avrebbe allungato tanto i tempi e portato un'impennata dei costi allora abbiamo riprodotto una lesione ben descritta in letteratura l'acido iodo acetico è una sostanza che ha una concentrazione nota è tossica sui fotorecettori quindi viene iniettato questo animale e la lesione viene controllata con l'elettrofisiologia vedete che 15 giorni dopo la lesione con l'acido iodo acetico con l'attività elettrica della retina misurata con l'elettroretinogramma esame anche questo a molti di voi sicuramente noto non c'è attività elettrica nella retina quindi il modello funziona il modello è giusto quindi viene lesionato l'animale controllato con l'OCT con l'elettrofisiologia che la lesione abbia fatto il suo lavoro e viene operato questa è un'immagine della chirurgia io ho sottoscritto la dottoressa Pertile l'ingegner Canali che ci assiste nella strumentazione viene fatta una vitrectomia quindi un intervento analogo a quello che si fa sull'uomo viene tolta il vitreo da dentro la cavità dell'occhio viene creato un distacco di retina artificiale iniettando dell'acqua sotto la retina viene fatta una piccola retinotomia quindi un taglietto nella retina e ha introdotto l'impianto a quel punto si mette una bolla d'aria che schiaccia giù la retina e si porta al riaccollamento della retina allora di questa fase sperimentale non ho i risultati tutti gli altri risultati che vi ho presentato sono in via di pubblicazione questi sono in via invece di elaborazione avrei delle prime sensazioni ma per correttezza nei vostri riguardi preferisco parlarvene quando è qualcosa di più concreto perché qui usciamo un pochino dall'ambito scientifico io mi occupo di questo progetto dalla sua nascita e questo porta al fatto che molto spesso mi arrivino mail di pazienti o di genitori di pazienti che è anche peggio che veramente mi straziano l'anima nel senso che mi rendo conto che c'è tanta disperazione dietro e tanta voglia di attaccarsi a una speranza allora io cerco di essere molto concreto faccio anche chirurgo quindi lavoro con le mani allora voglio che da queste mie parole e che dal nostro sforzo si generi una speranza ma non un'illusione quindi voglio essere molto concreto e devo spiegarvi quello che sono i risultati adesso non quelli che vorremmo che fossero perché quelli che vorremmo che fossero li sappiamo già in realtà ci ho detto quindi perché questo modello nell'ambito della retina artificiale è qualche cosa di estremamente promettente perché è un sistema del tutto biocompatibile non solo che copia fedelmente quello che la natura fa con i fotorecettori per tutti i motivi che ci siamo detti non c'è bisogno di autonomia di alimentazione elettrica c'è una risoluzione spaziale temporale pressoché limitata perché non è condizionata limitata dal numero di diodi di elettrodi presenti sull'impianto non solo modificando la composizione dell'impianto anche qua ve l'ho un pochino semplificata ma questi polimeri possono essere composti un po' come vogliamo noi si possono creare polimeri che rispondono a varie lunghezze d'onda quindi sulla carta è anche possibile la visione a colori in più due cose fondamentali costa poco produrlo sono materiali che hanno un costo di produzione bassissimo quindi immaginatevi insomma quali potenzialità ci siano effettivamente dietro questa cosa sul ratto funziona benissimo sul maiale i segnali cominciano a essere incoraggianti l'obiettivo è chiaramente arrivare all'uomo siamo in fase di collaborazione anche con persone che ci aiutino nel nel percorso anche tra virgolette burocratico per poter dimostrare poi anche al ministero i nostri risultati e poter avviare se i risultati del maiale ci sostengono in questa cosa un first in man magari una prova sull'uomo quindi preliminare se non addirittura una fase 1 che sarebbe la prova che tutto va pronto per il meglio speriamo noi ce la stiamo mettendo veramente tutta proprio per questo questa è la slide più importante secondo me che in cui ci siamo riportati purtroppo non tutti ma la maggior parte delle persone che sono dentro questo progetto è un progetto che è estremamente gratificante perché coinvolge fisici neuroscienziati chirurghi veramente persone con una formazione diversissima comunati dalla dalla voglia insomma di contribuire a questo progetto ognuna di queste persone qua ci mette l'anima in questa cosa anche andando spesso un pochino in contrasto con le difficoltà perché per esempio visto che siamo in un ambiente anche un pochino così amichevole mi fa piacere anche dirvi che per un medico ospedaliero tanto più fuori dall'SSN perché il nostro è un centro privato convenzionato la ricerca non è contemplata quindi la ricerca si fa con i propri fondi cioè il giorno in cui devi andare a fare gli impianti sei in ferie insomma ed è un sacrificio importante che però giornate come queste già bastano forse per ripagarlo almeno in parte devo dire che la nostra direzione si sta sensibilizzando molto quindi ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio però vi posso garantire che non è facile e quindi insomma grazie a tutti voi per essere qua e spero di essere stato chiaro sono aperto a qualunque tipo di domanda grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti